cari amici tanti saluti da Serafino Massoni nel filmato di ieri e mi sfatti d'amore vi dicevo che forse avrei fatto un outing per dire come potrebbero essere le nuove relazioni amorose e amorose dunque molto sinteticamente poiché il felice periodo matriarcale non potrà più tornare in quanto il peccato originale è stato consumato il peccato originale è consistito nell'aver scoperto che dal rapporto sessuale dal coito dopo nove mesi nascono i bambini da quel momento l'amore cioè i rapporti fra i sessi finiscono di essere un fine a se stesso cioè un vero e proprio piacere disinteressato ma diventano un mezzo per perpetuare la specie prima si pensava che la specie la perpetuassero solo le donne così autonomamente autonomamente e anche immaginabile e credibile ora non è più possibile tornare al periodo felice del matriarcato ma come impostare nuove relazioni amorose all'interno del mondo patriarcale cioè sperimentare nuove strade allora la mia proposta è la seguente tutti gli uomini quelli ovviamente non ancora sposati e non ancora conviventi facciano un passo indietro tutti gli uomini non ancora sposati e non ancora conviventi facciano un passo indietro cosa vuol dire fare un passo indietro non 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 e vadano più incontro le donne mostrando il loro interesse il loro interesse erotico sessuale ma trattino le loro coetanee o le donne in genere come delle sorelle fratellanza e sorellanza non le sfiorino neanche con un dito col passare del tempo bisogna saper aspettare col passare del tempo saranno le donne a fare un passo avanti mi rispondete subito e nel frattempo mica lo sappiamo quanto dura questo periodo che facciamo nel frattempo nel frattempo non si fa niente perché meglio aspettare come fece annibale durante la seconda la guerra annibalica come fece annibale che tennis calcola grande roma per una ventina d'anni meglio aspettare piuttosto che rovinarsi la vita piuttosto che rovinarsi la vita con gli avvocati e con i processi oppure di rovinarsela comunque anche senza avvocati e senza processi si aspetta che siano le donne a farsi avanti si dice ma le donne si fanno avanti con chi con i belli e lasciano perdere i brutti cari il concetto di bellezza è molto soggettivo lo sapete no è bello ciò che piace io vi posso dire con tutta tranquillità e voi fate pure le vostre verifiche su internet che il cosiddetto formalmente bello giuliano gemma giuliano gemma giuliano gemma ha avuto come moglie compagna una donna che a definirla mediocre già le si fa un grande complimento il bellissimo rossano brazzi che quando andava in giro per il mondo si vedeva le belle ragazze che le saltavano addosso e gli strappavano la camicia aveva una moglie anche lui alla quale poi rimasto fedele per tutta la vita che a definirla bella ripeto cioè mediocre già le si fa un gran favore andate a fare le vostre verifiche su internet giuliano gemma e la sua moglie rosano brazzi e la sua moglie il concetto di bello e di brutto è molto relativo ci sono donne cosiddette bellissime che sposano uomini cosiddetti bruttissimi e viceversa viceversa perché sono cose misteriose quelle che attraggono un uomo verso una donna o una donna verso un uomo non esiste il problema della bruttezza state tranquilli state tranquilli quindi saranno poi le donne a farsi avanti diranno io vorrei vorrei stare con te magari vorrei avere anche un bel bambino da te invertiamo invertiamo i ruoli invertiamo un po i ruoli a quel punto si prendono si prendono carta e penna e si fa un bel contrattino un bel contrattino fermato da entrambi lo si porta dal segretario comunale non c'è niente da spendere per la sola autenticazione delle firme nel contrattino c'è scritto noi due tizio e caia intendiamo stare insieme sin quando dio vorrà sin quando ci piacerà stare insieme i nostri miserabili beni sono separati sono separati il bambino che nascerà eventualmente il bambino che nascerà sarà mantenuto in forma paritetica da entrambi anzi sarà mantenuto non in forma paritetica ma con in percentuale maggiore dal padre perché la parte che la donna da nella perpetuazione della specie molto 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 maggiore di quella che da l'uomo e l'uomo da lo sperma dallo sperma cinque o sei minuti dallo sperma e la donna poi lo tiene per nove mesi sono nove mesi difficili quindi in proporzione l'uomo diciamolo chiaramente se vuole se vuole vuole esaudire l'istinto di paternità deve pagare un po di più non si non si scappa questa regola dispiace dirlo ma è così è la verità cioè la donna da da molto molto di più nella perpetuazione della specie di quanto possa dare l'uomo quindi nel contrattino nel contrattino c'è scritto quando quando non staremo più insieme il bambino starà con la mamma il bambino starà con la mamma e la mamma lo farà vedere al suo papà quando ne avrà voglia in proporzione in proporzione al rapporto che c'è tra la fatica la fatica di emettere lo sperma e la fatica di tenerlo nove mesi nel ventre però quando il bambino sarà cresciuto sarà grande il bambino non potrà rompere il papà se il papà non l'ha visto tanto spesso perché è scritto nel contratto che la mamma se lo alleva lei il bambino e lo farà vedere al papà quando la mamma ne avvolga diciamo così anche magari una volta all'anno sempre in proporzione a quella faccenda la cinque minuti per per lo sperma e nove mesi per 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 la gravidanza e poi altrettanto per l'allattamento e vi di seguito quindi un passo indietro un passo indietro un passo indietro il contratto può anche essere scritto che non devono nascere bambini ma se un uomo già proprio la vanità della paternità della paternità della paternità nel contratto ci sarà scritto anche che la compagna la compagna accetta che il compagno in qualsiasi momento possa chiedere l'accertamento genetico della paternità niente di male parti chiari amicizia lunga considerato che vi ho già documentato che 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 una recente statistica ve l'ho documentato e ve l'ho documentato stabilisce che una 2005 un bambino su sei non è del suo papà 10 su 60 100 su 600 ecco nel contratto parti chiari perché lasciamo da parte le favole di federico moccia le fiabe di federico moccia le fiabe vissero felice e contenti il principio azzurro e la damigella e via di seguito ecco un passo indietro si faccia gli uomini faccia gli uomini non sposati non conviventi facciano tutti in passo in passo un passo indietro e restino loro in dolce attesa restino loro in dolce attesa che siano le donne a fare un passo avanti le donne lo faranno passo avanti state tranquilli state tranquilli belli e brutti che siate va bene i brutti i brutti quelli che ritengono di essere brutti si ricordino quello che ho detto prima eh il bello e il brutto è molto soggettivo eh molto soggettivo Monica Bellucci per esempio è una bella statua ma non ha vita non ha vita questo è il mio parere eh questo è il mio semplice parere non ha vita non ha personalità meglio una donna brutta che abbia una sua personalità che è la Monica Bellucci va bene cari amici questo è the new love il nuovo amore vi sembra lo di Colombo è proprio di Colombo e io miracoli non li posso fare vi sto indicando una una via una via senza avere la facoltà di compiere miracoli va bene eh va bene cari amici perché tra tra l'altro chi faceva miracoli è stato messo in croce va bene per cui Nietzsche potrà scrivere a questo mondo è esistito un solo cristiano e quello l'hanno messo in croce vabbè spero di non avervi delusi vi ringrazio se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massimo